Francesco Gergo, abbiamo un grandito ospite, è lui, lo conoscete perché lui fa parte di Zio Pecos, è stato qui il lunedì, tutti i lunedì, abbiamo fatto dieci puntate di Trimendi, lui è il celestiale Thomas, bellezze, ciao Tommy. Ciao a tutti, che bello essere di qua. Grande Tommy. Tommy, allora, avete lanciato l'ultimo brano, vero? Cercavi l'amore, è uscito proprio oggi, lunedì 10 giugno 2024. Sì, siamo davvero contentissimi, oggi, stamattina è uscito il primo singolo del 2024, Cercavi l'amore, è un brano rock, Zio Pecos ultimamente sta dando un po' più spazio a questo genere, rock elettronico, anche un rock elettronico di Cantautorato, mi piace dire. Tommy, scusa, un secondo un po' più indietro che non ti vediamo bene sul video, un po' più indietro, un po' più basso Tommy, anche perché vogliamo vedere la tua bellezza, il pubblico di Radiolinea lo conosce bene, tutti i lunedì però è anche giusto ricordarlo, no? No, c'è tutto lo sgabello con la levetta sotto che mi sei abbassato. Dici, dici Tommy del brano. E quindi nulla, è uscito, proprio oggi siamo contenti, sta andando bene, abbiamo tante critiche positive. Il video è stato prodotto da Diding Gene, che è uno studio recording qua a Zona Marche, e poi è stato prodotto anche dalla nostra etichetta, è sponsorizzato l'etichetta Astral Music, che è un'altra realtà che ha sede qui nelle Marche, ma è riconosciuta in tutto il mondo, perché ha diverse serie di, sia al nord Europa, che a Dubai, che in Asia, è molto grande. Ottimo, ottimo Tommy. No, io adesso guardando, dimmi, 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 no, no, dimmi, dimmi tu. C'è anche il video, no? Sì, infatti dicevo proprio del video, perché è fantastico il video. Guarda, ci siamo divertiti un sacco, è stato stancante perché è una giornata intera senza pausa, davvero, stancante, stancante, però ci siamo divertiti. Ringraziamo anche tutti i collaboratori, Quadro, Diego Capomaggi, Stefano, eccetera, eccetera, per tutto il lavoro svolto. No, bello, io poi oggi, dato che è uscito, ero proprio lì pronto ad andare a ascoltare il brano e quando poi sento quel riff di chitarra, rock, onestamente a me fa innamorare. Quindi c'è anche da dirlo, dove lo possono trovare, Tommy, adesso il brano? Ma su tutti i digital store, qualsiasi, tipo Amazon, tipo Spotify, tipo YouTube, eccetera, eccetera, tutti, davvero tutti. Qualsiasi piattaforma digitale si trova il brano, cercavi l'amore. Ok, bellissimo. Poi soprattutto allora cercatele sui social, loro sono i Zio Pecos, band marchigiana assolutamente strepitosa. Poi adesso avremo altri progetti più avanti, avremo questo stop estivo, perché loro hanno tante date, tanti tour da fare, perché è anche giusto, sono richiestissimi, però cercheremo di portarli qui prima possibile. Perché ci richiedono a gran boge il ritorno tuo, Tommy, il tuo di Checco. Ma non vediamo l'ora, guarda, è un peccato adesso che l'abbiamo messo in stop, ma gli appuntamenti sono tanti, non ti nego che siamo anche un po' sovraccaricati di tutto, però nel periodo invernale poi che cambia tutta la programmazione settimanale da parte nostra, riusciamo a inserirci tranquillamente e non vediamo l'ora. Voi di Radio Linea siete spettacolari. Oio Tommy, una cosa, adesso lo devo spoilerare, adesso per chi magari ancora non ha ascoltato il brano, chi è che canta la canzone Cercavi l'Amore? Purtroppo canto io, è uno dei pochissimi brani dove si trova la mia voce, non quella di Checco, che in genere è lui il cantante ufficiale. Alcuni li canto io e questo è uno di quei pochi. Questo chi l'ha scritto Tommy, si può sapere? Allora, l'idea è nata da me iniziale, però poi dopo ci si lavora tutti quanti insieme, quindi con Checco, Pucci e Nicola. Siamo un team e si lavora insieme. L'idea parte da uno, ma poi dopo si va a strutturare e realizzare, concludere tutti quanti insieme. È ottimo, anche perché c'è da ricordare quant'è che esistete come gruppo? Allora, in realtà ci conosciamo da sempre perché sono più di vent'anni che suoniamo insieme, però Zio Pecos è nato il 2006, che eravamo sempre noi ma abbiamo cambiato nome e genere. Quindi, ufficialmente con il progetto Zio Pecos sono, fai conti, 18 anni stanno, 18 anni. È ottimo, quindi complimenti a voi e complimenti ve li fanno anche qui da Radiolinea perché siete un gruppo veramente formidabile. La musica, questa è vera musica, quindi se potete ascoltatela, cercatela, poi prima o poi l'avremo anche qua. E Tommy, niente, adesso ti ringraziamo, salutiamo tutti, Checco Zagaia che è sempre qui disponibile qua in studio, poi c'è anche Pucci, c'è Nicola, tutto il gruppo, loro sono in quattro e continuano così. Grazie Tommy. Grazie a voi, grazie per questo invito. Ciao Franci. Ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti.